bentornati ragazzi giocato for ragnarok nello scorso episodio abbiamo concluso diciamo la parte nord i vanheim e come avevo preannunciato in questo episodio probabilmente daremo una bella botta alle sfide di muspelheim senza perdere ulteriore tempo penso cercheremo lì regno primordiale potenziare al massimo il petto vediamo in che buco di muspelheim ci porterà quel seme e chi sia magari anche lo scudo mi è sembrato che vanheim fosse insolitamente umido sarà stato l'effetto del filmul winter in gran parte credo di sì quindi a midgard ci sono stati buio e freddo eterni a svartalfaim i terremoti ad alfaim pulsazioni casuali della luce invece asgard sembra non aver subito alcun effetto odino ci prepara da tempo nemmeno eilheim o muspelheim ho notato dei cambiamenti ora che ci penso forse i regni più primordiali sono meno suscettibili e jotenheim come pensi che stia e io che ne so volevo testare le tue capacità speculative non saprei ma se nessuno può saperlo che importanza ha certo certo muspelheim è come se non fossi mai andato via qualche incarico di odino già ma ora la compagnia è migliore siete qui per fare casino eh immaginavo che non avreste rinunciato a un altro giro di prove credo sia un glicinereo cosa sai della prova sono le normali prove violente e sanguinose di muspelheim si diceva che servissero a surtur per affilare le lave ma credo sia semplicemente un pazzo sanguinario come tutti noi l'amore l'amore che c'è ho trovato diventa più grande quanto più ne togli l'amore ma che schifo di relazioni hai avuto di mio non ha alcun senso concordo ho per non accetto lezioni sul romanticismo da due inurbani come voi diventa più grande quanto più ne togli oh go FNR che cazzo un altro bandito a sinistra cosa sta? oh oh ok già dude qui in arrivo dall'alto no cosa sta? o oh 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 ma Schiazma! Fratello, questo bastardo sta per esplodere! Quanto puzzano! Era in... È veloce! No! No, 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 che no, che no, che no, che no, che no, che no... L'ultimo! Schiappa! Easy La c'è una cassa L'ho visto Figliuolo No, prima di fare la seconda Andiamo avanti È stato divertente, anche se questo posto è bello grande Mi chiedo se ci siano altre erene No, andiamo andiamo dai cazzo è troppo tardi grazie per l'avviso questo è il mancello di te non sto perdendo oh la resisterei io su che partite così in macchina allora andiamo scus lancio misero levasi da leva schiappa 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 a destra in arrivo no si ma mi vuoi rilevare le balle se non è troppo un problema madonna si è ludicolato è finito schiappa schiappa alla tua destra schiappa 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 schiappe schiappa 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 ci sono Oh! Ma non finisca da di sotto? Ah buco! È finito? Ma miseria! Che cazzo! Perdonate signore! E' qua! Perdonate! Permesso! Permesso! Faccio il meter! Perdonate! Yoinkies! E' qua! E... 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 Arrivano! Ho metto a cucire i bimbi... Usta! Forse... Oh, e che coglioni! Oh, e che coglioni! Non c'è! Non c'è! Non c'è! Non c'è! Non c'è! Non c'è! That was fucking disappointing! Non c'è! Non c'è! Intanto andiamo da vedere il chest! Ah! No! Immagino che le debba fare entrambe! Non sto capendo! Non c'è! Non c'è! Non c'è! Non c'è! Non c'è! No! Non c'è! Non c'è! Immagino! Siamo a sinistra! Quattro di te, in arrivo! Chi è da me? Che barate! L'incubo kamikaze! Qui si mette male! Sì, Alma! Vai a p совpra! Chi z barà? Siamo a Dartmouth! devo letteralmente devo letteralmente alzare lo scudo e non ci riesco che riesco Impresionante! Ho visto... Di a casa... ...dialmente... 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 Oh, that's not doing... Lo vede? Chi cazzo mi sta a sparare? Possiamo anche tornare con te! Uno stun mentre sto poppando la cosa, no? Porca di una puttana! L'ho, la, la! No! 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 Esploderà! un grip dove sta l'altro incubo? ecco facciamolo schiappa esplodera 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 ahcoins eva diliva diva Are you fucking kidding me? Dovevo fare quel per un banale Mi giuro l'avanti Porca tro... Sopra di te, occhio! Prepara lo scudo Non ci stai stu cazzone Ma è morto Allora, è luce, eh? Lascio In arrivo, da sopra! What the... Ok, è morto Preparare Che Che Spacca 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 Grazie a tutti. 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 Devo fare quello, non fa niente. Ok, ok. Grazie a tutti. 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 Ce l'abbiamo... Grazie a tutti. Grazie a tutti. vero... a tutti. a tutti... ... qualcosa... niente... rimborsi... mi entri... sono aperto... ... non... non... tifano... tifano... mi... 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 spostati... mi... 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 ti... mi... mi... Dietro di me in arrivo! Su, fuoco! E' qua! Chi è? Do' sta? Mi dico che non ce ne stanno più. Dove ne c'è nessuno, solo che sono non vedente. No, non è tutto bene! Occhio! Metti sta merda duro! Uuuuuh! Herb was close! Che fenne me lo metto! Ok. Non sanno cosa li aspetta. Chi va! Fuoco alle spalle! Chi va! Uuuuuh! Che arrivo! che recupero la vita è ammazzante che recupero la vita è diverso bravo no fu qui in arrivo fu qui in arrivo mi sono pariato e prendo comunque l'altro a sinistra a sinistra Sì? Sosso chiepio? Non. Non. Wcf? 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 Occhio a destra! Questo combina... Trova la Noken! Rende questi cosi più forti! Dietro di te! Tuo amagre! E' nato! Occhio a sinistra! L'ultimo! L'ultimo! Occhio a sinistra! Ma madre! Sto coglione! Occhio a sinistra! E' come se il metallo fuso reagisse al completamento delle sfide! Come se... non so... ci ascoltasse! Il metallo vive è una metafora, suppongo! Io non credo! No! Ehm... Ehm... Tre arene fossero connessi a questa! Forgia di fusione! Oh bravi! Suona per... Avevo ragione! Ehm... Novantanove nemici! Oh... A destra! Io non mi... Ho sbagliato! Ma chi? Ma sono morto! Ehm... A destra! In arrivo! Uffio! Bene! Ristartiamo! Intanto mi devo mettere... L'altra ira! Quella per curarmi! Shiiiit! Wrong button! Forgia di fusione! Avevo ragione! Riavva! Bandito! A sinistra! No! 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 Bersaglio a terra! No! un altro bandito a sinistra è una buona grossa esploderà no Sbaldito! A sinistra! Dietro di te, in arrivo! No! Schiaffo! Tuo qui in arrivo! No! Help me! Dietro, occhio! Ehi, sai di un occhio! Schiaffo! Va finire di mangiare, eh? Schiaffo! Bomba di luce, occhio! Oh, porca putta! Oh, porca putta! Schiaffa! 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 Alla tua destra! Alla tua destra! a sinistra in arrivo sfera di luce in arrivo è brutto colpo è brutto colpo avanti non puoi Chi è alfa? Che si sorce? A sinistra! No, I'm shulking, man! Possiamo ammigliare anche questa cosa non va bene... E' veloce! E' veloce! Chi è alfa? 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Che cazzo sta succedendo il bimbo? Grazie. Il bimbo del buon Gesù si immacchiava. Che cazzo sta succedendo il bimbo? Che cazzo sta succedendo il bimbo? Ragazzi, i bimbi qua sono fastidiosi, eh? Che cazzo sta succedendo? Scusami, i frames. Scusami, i frames. A sinistra, fratello! Ecco, guarda la... Sono morto, ma che cazzo? Ma guarda, secondo me forse... Corno sui miei passi... E rimetto la cosa che avevo prima... Forgia di fusione. Avevo ragione. E guarda questo pezzo di merda. A destra! Dietro di te! Occhio! Ah, vedo le auto! Occhio! Ah, berole fai... Mischo? Ah, fratello! Prende le botte a caso. Che devo fare? Fatti i coglioni. E' una corda merita ahi. Un vaso subido. C'era una coppia. C'era una coppia. C'era una coppia. Si tu che guai le gavard, va a ver, va a ver, va a sermo l'epidio. Ho capito il re in giù! A destra, in arrivo! 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 A destra! A destra, in arrivo! 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 E di nuovo qua che vado a morire, eh? Non lo recupero con una sigla, devo capire, amici? Ma che sono morti? Classico, dieci, me ne mancavano? Forgia di fusione. Avevo ragione. Anduto a sinistra! Schiappa! Dietro di te, in arrivo! Di alfa! Alla tua sinistra! Di alfa! Di alfa! Di alfa! Di alfa! Di alfa! Di alfa! Questa è veramente una mossa, madonna, quel di piombo, eh! Occhio! Che cazzo di lotta! Buon occhio! Fuoco alla tua destra! Sto a prender fuoco nonostante il cazzo! Ma vaffanculo, beh! No, madonna! Ma che cazzo stupide! Il dovolato si giro mi fa il culo, a caso! Per niente è bene, va! No! Chi Alpha! Chi Alpha! Chi Alpha! Chi Alpha! o 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 se le completiamo in un ordine diverso la ricompensa sarà diversa jesus 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 o simile il potenziale armatura wow ma quanto cazzo sono bravo molto bene a posto intanto l'arma è tutta potenziata scudo 2 di 3 un 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 e si fortifica secondo me questi sono di quell'altra ropa endgame quindi forse lo scudo può potenziare un po' dovrebbe durarti per un po' allora abbiamo fatto questo affè effe Come i vecchi tempi, eh? Stiappa! 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 Ma sto rompicoglione! Fratello! Questo bastardo sta per esplodere! Quanto puzza! No! E' la nocchia dei miei coglioni! Sì! Che te sto piantando per terra! Ma pure il grasso si è stunna! Lei non si è stunna! Ancora? Ancora? Inseverè il fermo un po' senza il rosco, mi devo fare che ci fermiamo. Fermiamo qua, poi il resto le facciamo, ovviamente. Ho dovuto andare a fare solo una cosa. Per quanto non mi dispiace fare le... Faccio una terza... I'm stupid! Che cazzo è sui... Attento, fratello, sei coperto di Bifrost! E' notato che sono coperto di Bifrost completamente a caso, perché questo... Ancora devo uscire dal cazzo di questo, non mi stai tanto. Fu di quel ca... Oddio... Sta con me... ...degile. Maitato, mentre... mentre, mentre mi sta sopra me... ...attraverso il pavimento mi hita... ok... ...un altro obietto, a sinistra! Senti, per cortesia... ...mi levi, da dico... ...chi è che me sta... ...di Brian & Co. ...l'hovi. ... ... ... ... ... A destra, fratello! Rotola, fratello! Tira, va! Sous-titrage ST' 501 Attenzione! Oddio, questo me la ricorda, questa rottura di cogli... Ecco io l'ho sentito! Eh, ce la faccio il tasto pezzettino di merda? E che cazzo stai afferminando? Brava boom! Ah si, ma no tanto, ma... Ovviamente lui se ne scappa nell'esso... Cazzo stai afferminando... Sì, Alfa! Ma che cazzo! Sto vede, avevamo visto che ho del buco! Che sto vede, eh? Misopotamia la inguita! Canti coglioni! Che vero te l'uno! Ma da dove cazzo me hiti? Che fucking dodged! Che! I bear armor for this! Che cazzo! E guarda la che monnezza! Non preoccuparti per me! Andiamo! Devi morire! Che! È lontano da me! È lontano da me! Vabbè, vabbè, vabbè! Yes! Voglio livellare equipaggiamento! Che tanto tiro in due secondi! Ciao! È lontano! Ce n' pagli troppo codico... Ma no! Questi ma di riconoscenza! che c'è isto? miro l'abbè l'abbè che è brutto colpo, stai bene, fratello? ti devo dire l'onesta verità what the shit ma non dove evitare quello? anche se invece... stai mirando il cristiano sbagliato non so come giallo devo spiegare non so come giallo devo spiegare non so come giallo devo spiegare e rotti i coglioni bello quel trading dananetti è il messo nato non so come giallo si è avvenito detto che ci sono non sono E' un'altra cosa? è urbaista Ah boh, guarda la merda che giù sta qua fuori! Adesso sta dittato! Al bambino Gesuso sta dittato! Non la sto provando a dittare l'interessante! Probabilmente interessante! A mezza! E' morto! 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 E non ci credo a certe morti che faccio? Sta arrivando! Ma ti lasse chi cazzo vuoi? Fuoco! Sopra di te! Occhio! Guarda sto pezzo di cazzo! Che brutto colpo! Stai bene, fratello! Non è arrivato, no! Ho perso metà vita! Dietro di te in arrivo! L'altro è molto quel pezzo di... ... ... ... ... ... Sono bifrostato, ma... si dice, bifrostato. Oh, hell yes! Ma quindi quello fa comunque danno a O.E. su tutta la ma... Il pretty fucking good, man. E se... Ski Alfa! Ski Alfa! Ski Alfa! Ski Alfa! Ma si dice, bifrostato! Mi romperi volo... Eccola! È tutto colpo, stai bene, fratello! Ha dentro il cuci, me hit-o-wolf! Uno! Oh! Oh! Chiappa! Chiappa! Chi! Ciao! C'è un'amera mio viso. guarda la gemmonezza scusami non maci sto stro Oh no! Oh my god... le corna brillano saranno fuldi devoli e... come ascia corpa è stato... grazie a sinistra eh ma che coglio... ma mille una freccia già sta... vedo un bel po' che deve essere qui se gira humm... ho saltato in media no 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 in realtà sto torna pure se ti serve altro sto messo malissimo no l'ascia sta l'ascia sta l'ascia sta proprio indietro in realtà sono le lambe che stanno avanti parlando di non mancano queste due da potenza mi so che ne ha un'altra anche dopo ero ne ne viene mai l'expo va bene a questo punto qua siamo messi abbastanza bene oh siamo a 12 con queste altre due seconda e terza non si soli con l'invertimento adesso e faremo più avanti su perché deve essere così caldo ti sudano anche le paole si 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 Volevo un attimo fermarmi per capire che cosa io volevo andare a chiudere gli sporci del regno. Quello mi chiede un potenzialmente per l'ascia. Sto aprendo tutto meno che la mappa. Midgard siamo un po' indietro. E l'abbiamo fatto tutto? Sì? Andiamo al fame. Che cazzo? Non ci dovrebbe essere anche un... Dumbledore? Algo al verser. Inizio. Inizio. N i sulti da lonti da lonti. Questa è un po' indietro. Inizio. andando sempre che mi stia lontanando per che mi sto lontanando non posso fare neanche manovra non posso fare neanche Sì ragazzi ma non si capisci una siga Ci sarà di là Altra strada giusta Mi sto allontanando ancora di più Cazzo Cazzo Siamo da tutt'altra parte Che palla da giro su sta mappa Mi sto allontanando In qualche cazzo di modo Sto sbagliando ancora strada Mi sono rotto veramente Cambiamo zona Le quarti d'oro che stanno andando a giro Senza risultati Sto sbagliando ancora di più Non è necessario Sto sbagliando ancora di più Sto sbagliando ancora di più Non ce la faranno i nostri eroi? Sto sbagliando ancora di più 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 No, non ho veramente pari di dole. Bitzzerker l'infamido! Orchia, i nemici della schiaffa! Oh, grazie. Che cazzo sta succedendo? No, ragazzi. Yap. Yap. Do questo perché... Ragazzi... Cadi uno giusto! Grandissima fight che sto facendo. Allo? Bitzzerker l'infamido! Morte ai nemici di Leila! Un altro incubo, a sinistra! Chi ha fatto? Non trattaci! Oh, no! Un picchino del lode! Perché ho finito di fare lo strano se mi ha messi? Molto a dritto. Cambio! Che sto facendo ai miei... oh no ah 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 il tempismo bravo cazzo 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 buono ragazzi ma che Allora, la Lira la usa tutta per fare i bimbi piccoli che evoca dopodiché... L'impavido evoca un milione di cristiani, meno male che sia impavido. Sì, 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 assolutamente, hai ragione. Di tutti lì? Non so che cazzo si sfidesce, se non è che non sarebbe voluto. Oh! Mi fa Gert ingrazzare! Mi fa spavare! E' un po' a sinistra! 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 Un po' a sinistra! Oh! Ic! Bitzzerker l'impavido! Orche ai nemici di Leila! Bitzzerker l'impavido evoca cinquecento persone! I due inseri il codallo? Chiara il c***o! Sopra di te! Occhio! Uff! 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 E li è brava! Brava! Adoro i mosconi mobili insieme! Vieni! 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 Bitzzerker l'impavido! Morte ai nemici di Leila! Ma quella ancora devi uscire da dentro il terreno! Non mi sta attaccato! Chi Alba? Nooo! Attenzione! Non funziona con G.U.P! Non funziona con G.U.P! Non giugazza! Non giugazza! Diarrho! 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 Giugazza! Via! 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 ovviamente non vuoi parlare su giocare in cristiano è la liberaria ah 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 ma lo sta ancora attaccando cioè io ho schivato stavo a dieci chilometri lontano da lui e proprio contento che cazzo succeda ah 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 ancora vivo ah 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 E niente, i nuovi li ha dovuti chiamare, ma che rottura dei bologni! Impressionante! E non ho più lo scolo giusto! Oh, questa l'ho sentita, fratello! Ehi, tu, perlau! Molperlau! Cambio le frecce! Oh, mio Dio! Oh, mio Dio! Oh, mio Dio! Oh, mio Dio! Ah, mio Dio! Ah! Ah! Ah, mio Dio! Ah! Adesso avrà tro... Ah! 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 Invece... Ah! Ah! Addio. Mamma. Io direi che ci possiamo fermare. Anche perché abbiamo tiltato abbastanza. Per sta, sir. E niente. Vi ringrazio per essere stati come al solito. Ecco, Matti è arrivato proprio nel momento in cui me ne sto andando. E vi do appuntamento alla prossima. Ciao ciao.